Passano le giornate e diminuiscono quelle che mancano al termine della regular season, lievita di conseguenza il peso specifico della posta in palio. Non si può più sbagliare quando restano 5 turni da giocare nel girone H del campionato di Serie D, o quantomeno i margini di errore sono assai ridotti. Discorso che vale pure per Gravina e Manfredonia, una di fronte all'altra domani pomeriggio sul sintettico del vicino, quello amico dei Murgiani. Fischio di inizio previsto alle ore 16.30. Lottano per obiettivi differenti. I gialloblu puntano a un piazzamento playoff possibilmente di prestigio. I garganici vogliono invece evitare di ritrovarsi in lotta per la salvezza diretta sino all'ultima puntata di questo torneo. Prospettive diverse dunque, ma almeno per 90 minuti i prossimi, accomunate dallo stesso auspicio, vincere. Ci proverà il Gravina che domenica scorsa ha perso sia la partita interna con la Gelbison, la prima della gestione del Leonardis, che il quarto posto in classifica scavalcata dal Mardò. Ci proverà anche il Manfredonia che sei giorni fa, battendo al Miramare il Vultur, ha ritrovato il feeling con i tre punti dopo un periodo di astinenza. In classifica ci sono 15 punti che separano le due squadre, ma i derby sono sempre i derby, sfuggono a qualsiasi pronostico. Sono due, tra l'altro, gli affari tutti pugliesi che propone il calendario della trentessima giornata. L'altro si giocherà oggi alle 18.30 tra Nardò e Sansevero. Gelbison, Trastevere, Bicelli, Anzio e Nocerina, Cenzia sono le tre sfide che riguardano i quartieri alti della classifica. Si gioca molto nel prossimo turno anche la madre Pietra Apricena, che ospita domani, a partire dagli ore 15, l'Herculaneum. I Foggiani, reduci da tre risultati utili consecutivi, devono continuare a spingere sull'acceleratore per evitare la retrocessione diretta e giocarsi poi le proprie chance di salvezza e i play-out. Completano il quadro, infine, i derby tutti Lucani, Picerno, Francavilla e Vultur Potenza e la sfida tra Agropoli e Ciampino.